Chiedono giustizia e tornano a protestare. Dei 37 lavoratori della società H2O in cassa integrazione, 24 sono stati riassorbiti dalla Marcas, la nuova impresa di pulizie che opera nella casa di curantea di Bari. In 13 sono rimasti fuori. Perché siamo stati esclusi, si chiedono i lavoratori e le loro famiglie. Forse perché per un accordo interno con Villa Maria, i 13 avevano cominciato a lavorare come operatori sociosanitari e non più come addetti alle pulizie, richiesti invece dall'azienda. Noi pur avendo un contratto da pulitore non siamo riusciti ad entrare perché svolgevamo un'altra mansione che è quella dell'operatore sociosanitario. Infatti nei prossimi giorni saranno depositati alla magistratura degli esposti nostri di interposizione di mano d'opera. La casa integrazione partita il 10 agosto scorso scade domani e i lavoratori sperano di ottenere qualcosa da un incontro in prefettura previsto per lunedì. Ci sarà appunto un incontro con il prefetto fissato per lunedì dove ci saranno tutti i vertici interessati in questa vicenda.